Ciao a tutti! Oggi finalmente comincerò consigliandovi 5 drama da vedere assolutamente sul Netflix. Essendo la piattaforma più diffusa in assoluto nelle nostre case, ho deciso di cominciare guardandoli da qui. Partiremo con 5 commedie romantiche di quelle che vi faranno veramente palpitare il cuore. Il primo drama in assoluto che vi consiglio è Crash Landing on You, una bellissima storia d'amore della durata di 16 episodi da circa un'ora. I due protagonisti, Yoon Bin e So Ye Jin, sono sposati anche nella realtà e hanno avuto una bambina, quindi questa storia tocca ancora di più il cuore. Vi riassumo brevemente la trama. Crash Landing on racconta la storia di questa ragazza a capo di una grandissima azienda che un giorno va a fare parapendio e per sbaglio finisce in Corea del Nord. Come sapete Corea del Nord e Corea del Sud non vanno d'accordo, quindi quando arriverà in questa zona di confine avrà il suo primo incontro con questo militare nordcoreano. A questo momento in poi inizierà una bellissima, meravigliosa storia d'amore. Davvero è tra i capolavori assoluti delle commedie romantiche. Il secondo drama che vi consiglierò oggi è Something in the Rain. La protagonista è di nuovo So Ye Jin. Questa volta accanto a lei c'è Jung Ge-in, un altro bellissimo attore coreano. Questo drama racconta la storia d'amore tra una donna in carriera e il fratello della sua miglior amica di ritorno dall'estero. Anche questo è tra le commedie romantiche must watch, quindi assolutamente da vedere, veramente molto emozionante. Terzo drama che vi consiglio oggi è Hometown Cha Cha Cha. Quindi ci spostiamo un po' fuori città con delle atmosfere un po' country. Questo drama racconta la storia di questa bellissima dentista che decide di trasferirsi in questo villaggio sul mare. Ed è qui che incontrerà questo ragazzo tuttofare che aiuta i suoi vicini e tra loro nascerà un bellissimo legame. Anche questo drama composto da 16 episodi da circa un'ora. Quarto drama che vi consiglio è My Holo Love, composto da 12 episodi da circa 50 minuti. My Holo Love è l'unico di questi drama che vi consiglio oggi con un po' di fantascienza, perché racconta la storia di questa ragazza che ha una disfunzione che non gli permette di riconoscere i volti delle altre persone, ma un giorno entrerà in contatto con un nuovo progetto. Si ritroverà tra le mani un paio di occhiali in grado di far vedere a chi l'indossa un ologramma. Questo ologramma con un'intelligenza artificiale ha l'aspetto del suo creatore e lì inizierà a provare dei forti sentimenti per questo ologramma. E non vi dico altro perché è una storia veramente veramente bellissima. È bello perché una storia che all'inizio sembra impossibile pian piano diventerà realtà. Concludiamo i consigli di oggi con 2521. Questo capolavoro spettacolare che io veramente mi sono emozionata e ho anche pianto tantissimo è un drama d'amore stupendo. Due protagonisti sono Nam Joon-yuk e Kim Tae-ri, che chi è nel mondo dei drama da parecchio tempo sa che sono due attori veramente fenomenali. Questa storia tocca il cuore perché praticamente racconta di questa ragazzina che un giorno trova i diari segreti di sua mamma e quindi inizia a rivivere attraverso questi diari segreti quella che è stata la grande storia d'amore di sua mamma ambientata a fine anni 90. Tutto il drama è un grandissimo flashback dove vediamo questo rapporto tra questa ragazzina e questo ragazzo un po' sfortunato diventare sempre più forte fino a scoppiare in una grandissima storia d'amore. È un drama veramente profondo, toccante, ricco di emozioni, ricco di avvenimenti che lascia dentro anche una grandissima nostalgia di quel bellissimo periodo che erano gli anni 90. Oltre alla storia d'amore in questo drama è bellissimo vedere anche la storia sportiva della protagonista che da grande schermitrice insegue i suoi sogni. Quindi concludo questi miei consigli con veramente un capolavoro di emozioni, veramente preparatevi perché è un drama, servono tanti fazzoletti. Anche questo composto da 16 episodi da circa un'ora. Ovviamente sono curiosa di sentire cosa ne pensate, se li avete già visti, se avete intenzioni di vederli, ditemelo pure nei commenti o contattatemi come volete, TikTok, Instagram, vi aspetto su qualsiasi piattaforma. Ciao!